Noi abbiamo in questo momento, credo, bisogno di stabilità nel Paese per rispondere ai temi importanti del lavoro. Sento tanto, tanto discutere di legge elettorale, per carità, importante, è una cosa essenziale nell'esercizio della democrazia. Ma innanzitutto le persone, gli uomini e le donne del Paese vogliono risposte sul lavoro, sulle prospettive della crescita, sul loro futuro. Priorità ricostruzione dopo il sisma non solo delle case ma anche delle fabbriche, quindi del lavoro, dice Anna Maria Furlan, segretaria generale della CISL a Civitanova per la nomina di Sauro Rossi, che subentra Stefano Mastrovincenzo come nuovo segretario della CISL delle Marche. Nato a Urbani a 52 anni, finora aveva la Delegal Welfare, una nomina nel segno della continuità che garantisce attenzione e impegno per i tanti problemi che devono affrontare le Marche del Sisma, secondo la Furlan. C'è da dare forza e spessore alle politiche di sviluppo perché serve rilanciare la nostra economia e proporre un'idea di futuro, soprattutto ai tanti giovani che sono alla ricerca di lavoro. e c'è soprattutto anche quello di tessere il maggior numero di alleanze possibili per salvaguardare un welfare che ha bisogno di ripensarsi per dare risposte concrete alle tante persone e alle famiglie che sono entrate nell'area di fragilità e che si interrogano su come darsi un futuro dignitoso dopo i morsi della crisi. Grazie 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 Grazie